E' la mia maniera, è la mia maniera, è la mia maniera, è la mia maniera. Siamo in linea con due straordinarie bellezze che abbracciamo in questo festival del cuore di Napoli. Che cosa rappresentate con questi meravigliosi abiti? Innanzitutto tu ti chiami? Angela, buonasera. Innanzitutto questo è l'atelier Anita Sposi, si trova a Scafati a Via Roma e questi sono bellissimi abiti da cerimonia. Sono molto corti e queste trasparenze bellissime, queste applicazioni di brillantini. E siamo con... Federica. Abiti splendidi indossati dalle ragazze giuste nell'occasione giusta. Grazie mille. Ovviamente l'Anita Sposi non veste solo da cerimonia, ma anche sposo, sposa, madre, damigelle, per tutti i gusti, dall'abito più svasato, a sirena, a tutti quanti. E descriviamolo però, questo splendido abito. Un abito turchese in tulle, pieno di... impreziosito da gemme, perline che rendono il tutto più sbrilluccicoso. E d'altre due bellezze con degli abiti straordinari. Beh, insomma, sposarsi con un abito così vale doppio e per lo sposo è una sensazione indimenticabile davvero. Tu sei? Claudia, avvisate. Vuoi descrivere questo abito che indossi? Beh, questo è un abito unico. L'atelier Anita Sposi si donna a tanti bianni e pensa a tutto. Questo vestito ha una scollatura a cuore, impreziosito da Swarovski, ha delle russure, ha delle trasparenze, beh, cos'altro ci vuole. E siamo con... Flavia Schiano, buonasera a tutti. Un abito veramente meraviglioso, l'estate che esplode in colori originali, tenui, ma nello stesso tempo vitali. Descrivi questo tuo abito. Allora, è un corpetto pieno di paillettes luccicanti, bellissime, con una gonna che fa uscire fuori l'ombelico e fa vedere tutta la sua bellezza, mo ci vuole. E niente, che dire, è un abito veramente particolare ma contemporaneamente semplice, però valorizza, diciamo, anche dietro. Scusate le spalle, però ha tutta una bellezza sua, diciamo, quindi... L'esplosione, l'esplosione dell'estate, della bellezza nell'incanto di Napoli, in un'occasione unica e irripetibile. Napoli incontra il mondo. Esatto, sì, ci voleva e siamo appositamente qui proprio per questo, quindi abbiamo fatto bene a indossare questi capi che d'altronde sono anche comunque, non solo da sposa, ma anche da cerimonia, come dicevano anche le mie colleghe, diciamo. Quindi, sì, Anita Sposi è qualcosa di unico, incredibile perché veramente veste tutte le taglie, le età ed è bellissimo sposarsi come essere in un ricevimento, diciamo, è bello solo vestirsi. Grazie davvero, il sogno più bello è sposarsi con un abito come questo, dai. È bellissimo, è emozionante, è fantastico, è unico, il modo sicuro per ricordarsi del proprio giorno. Una parola d'obbligo con Donato Bibbiani, titolare di Anita Sposi, vi aspettiamo in tanti da noi in atelier per scoprire la nuova collezione 2018. È uno spettacolo, dove siete come sei? Noi siamo a Scafati, alla Via Roma 153, Anita Sposi. Claudia Avvisati, Flavia Schiano, Federica Musti, Angele Chiove.